Marineria, attività commerciali e turistiche pescaresi stanno subendo troppi danni a causa dei ritardi nel dragaggio del porto canale. E quanto ribadisce il presidente vicario della Confcommercio di Pescara e presidente della Sib Confcommercio Abruzzo Riccardo Padovano, il quale lancia un appello alla regione perché, afferma al Tg8, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Che gli uffici amministrativi regionali si diano da fare perché so che i progetti sono pronti, c'è solo da firmare da parte di un dirigente, ma perché lanciamo questo grido? Perché fra 10 giorni, 12 giorni al massimo, si effetterà il fermo tecnico della pesca. Se i motopescherecci si ormeggiano nelle banchine, il rischio è che, una volta ormeggiato, il materiale che sta nei fondali, se non viene tolto, diventano un problema e poi l'oro per tornare in mare. Primo problema. Seconda questione, non è pensabile che per dragare siamo riusciti ad ottenere una risoluzione al dragaggio e troviamo intoppi ai fini amministrativi. Chiaramente non riusciamo più a capirci niente. Io sono il rappresentante della Confcommercio, nonché dei bagnatori, ma il porto di Pescara. Non interessa soltanto i pescatori, interessa tutta la comunità. Noi anche quest'anno abbiamo perso l'opportunità di mettere un aliscafo per collegare i passeggeri dall'Abruzzo verso i Balcani. Questa è una questione che dobbiamo affrontare da subito. Appena finita la stagione, io chiederò subito al Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale, attività, sinergie per mettere in piedi questo porto. È in atto il piano regolatore portuale, ci sono personalità che si attivano perché questo porto possa decollare, poi ci sono comitati dei condomini che rappresentano i cittadini, ma poi con il loro modo di rappresentare rischiano di arenare tutti i progetti che sono stati iniziati circa 3-4 anni fa. Non dico 3-4 anni fa, da 20 anni a questa parte che parliamo del porto di Pescara.